carissimo al diavolo i convenevoli e andiamo subito al sodo che tu ci creda o no ho finalmente dato vita ad una realtà elitaria di studenti seri a cui dedicare tutte le mie attenzioni e l'ho chiamata rana nera club una realtà capace di rilasciare ogni mese informazioni inedite e off limits riservate unicamente ai suoi membri del it una sorta di club esclusivo con un unico obiettivo monetizzare e costruire ricchezza e prosperità con una visione di lungo termine stabilmente esatto caro mio hai letto bene di lungo termine a tal proposito mettiamo subito le cose in chiaro se ti iscrivi alla mia prestigiosa membership non ti arricchirai velocemente sai perché perché arricchirsi velocemente non esiste e non c'è nessun ma e nessun se non esiste punto finiamola una buona volta con questo discorso perché davvero ne ho gli zebedei ricolli guadagnare online non è sinonimo di guadagnare velocemente guadagnare online non è facile guadagnare online non è scontato ma davvero c'è ancora chi crede a questa idiozia ti va se affrontiamo un attimo l'argomento visto che gira e rigira interessa a tutti e io me ne occupo seriamente e professionalmente da anni guadagnare online come persona che ha introdotto per prima questo concetto ormai abusato e completamente travisato nel mercato italiano mi prendo l'onere di spiegarti alcune cose la maggior parte dei ricconi che osservi su instagram sono poveri ed in debito la maggior parte dei metodi di guadagno attualmente insegnati sono illegali completamente immorali e assolutamente non sostenibili il fatto che prima di andare a letto tu te la debba raccontare non incide su tali verità indiscutibili inoltre la storia insegna molti di tali metodi faticano a durare un paio di anni e già sarebbe un record l'unico modo per avere entrate importanti e diventare un esperto di online marketing capire come funziona il denaro e capire come si fa veramente business se vuoi diventare milionario e lo vogliono tutti devi imparare da un altro milionario che ha creato altri milionari veri non finti imparare da me per esempio la realtà è che ad oggi nessuno si spiega come io faccia ad incidere così radicalmente sulla monetizzazione di un business nessuno ci riesce come ci riesco io e questa abilità ha obbligato praticamente tutti i leader di mercato che conosci a venire da me alcuni anche piuttosto contro voglia alcuni sono costretti a mentire al socio altri hanno cellulari che non funzionano per tre giorni in realtà li tengono in modalità aerea mentre sono con me a dubai altri si fanno assicurare almeno 18 volte che non saranno registrati in nessun modo e che nessuno saprà mai che sono miei studenti perché fanno questo perché nonostante io stia loro profondamente sul cosiddetto per motivi che io ignoro riconoscono che io e solo io posso produrre certi risultati specialmente quando tali risultati occorrono con una certa rapidità e si rifanno a situazioni molto poco convenzionali questo mi permette di avere più studenti di quanti ne vorrei che fanno letteralmente la fila per poter accaparrarsi una consulenza privata con me e che comprano e consumano abidamente ognuno dei corsi rilasciati dalla mia azienda la big luca international saresti completamente sconvolto se ti rivelassi la vera situazione finanziaria di alcune persone che tu pensi siano ricche alcune le conosci non lo farò mi pagano una barca di soldi anche per il mio silenzio ho voluto fare questa breve parentesi perché la big luca international ha da tempo intrapreso una politica anti supercazzole e voglio che sia chiaro che preferisco lasciare i facili sogni di gloria falsi agli altri ma ora torniamo a noi mi sono stufato di parlare alle masse e di regalare perle ai porci come high network individual qualifica di cui godo ormai da qualche anno sento sempre più il bisogno di confrontarmi con gente di un certo livello e mi riferisco ad un certo livello di intelligenza e mindset più che di danaro per questo ho deciso di eclissarmi dalla scena pubblica non ne posso più dei fuffa guru haters ignoranti informazioni anacquate o alterate formatori improvvisati opportunity seekers idioti eccetera eccetera infatti l'attuale obiettivo è quello di riunire e soddisfare una cerchia ristretta di studenti esigenti che vogliono distinguersi dall'imprenditore medio per raggiungere risultati ben oltre l'ordinario senza avere bisogno di farsi abbindolare dalle false promesse esagerate ormai sulla bocca di tutti per questo motivo io e il mio team abbiamo lavorato sodo per creare una realtà completamente differente e distaccata da tutto il resto capace di soddisfare i palati più fini quello che infatti otterrai unendoti al club non sono scroscianti cascate di money automatici che inonderanno la tua vita dal giorno alla notte grazie ad un facilissimo metodo passo passo alla portata di chiunque please ma è un livello di istruzione che non puoi trovare altrove perché come ti ho detto avrai accesso alle informazioni off limits riservate unicamente a te e agli altri membri del mondo settimana dopo settimana riceverai costantemente nuovo materiale inedito degno di un gruppo di prima classe che desidera formazione non stop esclusiva in qualunque momento potrai immergerti in argomenti mai trattati prima analizzati in modo certosino fin dalle basi oppure in approfondimenti che io lascio solo in consulenza privata troverai gran parte del dietro le quinte della big luca international e ti svelerò molti dei ragionamenti che faccio privatamente per la mia azienda anche se sei un mio studente modello là fuori c'è ancora un intero mondo di informazioni con cui far esplodere gli introiti della tua attività e quello che voglio fare è portarlo tutto all'interno di questa membership in pratica avrai sempre in qualunque momento nuove lezioni da implementare al tuo business a partire dal primo mese che include oltre 16 ore di contenuto su diversi argomenti alcuni dei quali mai trattati prima ti darò tutti i dettagli nelle prossime righe insomma mi sento di dire che ho creato un piccolo paradiso della formazione per chi vuole il meglio per far decollare seriamente il suo business per chi condivide un certo tipo di mindset per chi ha determinati obiettivi valori ideali e ambizioni in pratica per chi aspira a diventare parte di quel famoso top 1 per cento quel top 1 per cento di cui io faccio parte da anni e in cui ho già portato diversi studenti diventati milionari partendo da zero alcuni conosciuti altri no inoltre per la gioia di grandi e piccini questa membership sarà anche l'unico canale diretto per interagire con me settimanalmente come forse già sai il 22 luglio ho letteralmente tagliato i ponti con il pubblico perché mi sono reso conto che le distrazioni sono tante troppe e non me le posso più permettere ho cancellato i miei profili social eliminato le relative app dal mio telefono cambiato numero e ho innalzato delle barriere tra me e chi mi vuole contattare se questo ti sembra snob puoi baciarmi il cosiddetto questo era l'unico modo per alzare l'asticella elevando la big luca international e i suoi studenti ad un livello ancora inesplorato dalla quasi totalità dei formatori mondiali infatti ho passato questo mese e mezzo di isolamento forzato a distillare ogni nozione in mio possesso creando un concentrato di conoscenza mai visto prima e ho pensato a come fornire il miglior supporto per coloro che vorranno far parte di questa realtà d'elite decidendo di rendermi disponibile ogni settimana per un confronto diretto ovviamente live con sessioni di q&a dedicate nelle prossime righe ti darò tutte le specifiche di come funziona di cosa riceverai ogni mese di come potrai gestire il tuo abbonamento eccetera ma prima di proseguire tre avvertimenti primo questa membership per imprenditori marketer e liberi professionisti che hanno intenzioni serie quello che intendo è che stiamo cercando di creare un ambiente composto da persone che sanno cosa significa lavorare duro se le cose andranno come ho calcolato probabilmente un giorno ci saranno ritrovi esclusivi per chi ne fa parte e l'ultima cosa che voglio è ritrovarmi faccia a faccia con persone che credono ancora i soldi facili o sono alla ricerca dell'ennesimo metodo di guadagno se ti senti chiamato in causa non sei chi stiamo cercando ti chiedo la cortesia di non aderire se invece hai l'ambizione di creare qualcosa di solido e duraturo nel tempo e sei consapevole dell'impegno della dedizione necessaria per farlo benvenuto a bordo secondo l'iscrezione non è rimborsabile anche se abbiamo di recente introdotto la nostra garanzia ufficiale la membership non farà parte dei prodotti coperti nonostante il suo prezzo volutamente high ticket la tentazione di provare sarà tanta anche per i sopraccitati opportunity seekers e non avendo intenzione di perdere tempo e focus con certe persone dobbiamo in qualche modo assicurarci più barriere d'entrata possibile terzo ci riserviamo il diritto di annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione voglio un ambiente quanto più produttivo possibile in particolare durante gli incontri settimanali nei quali interagiremo live per questo motivo se dovessimo riscontrare comportamenti deleteri per gli altri membri annulleremo la tua iscrizione rimborsandoti la somma versata chiariti questi tre importanti punti posso finalmente svelarti cosa riceverai nel dettaglio ogni singolo mese per prima cosa lezioni private col papi due ore le uniche capaci di trasformarti in un imprenditore top 1 per cento ogni lezione sarà un concentrato di conoscenza mai rivelato prima ottenuto distillando le più avanzate nozioni in mio possesso e l'intero percorso tratterà nei minimi particolari le migliori strategie di marketing e gestione finanziaria disponibili sul mercato non mancheranno inoltre numerosi approfondimenti sul mindset perfettamente integrabili con il contenuto di online marketing per mente catti 2.0 a partire dalla lezione di questo primo mese secondo big luca on air appuntamento live settimanale dove approfondirò alcune tematiche importanti e risponderò alle tue domande in maniera esaustiva e personalizzata attenzione non si tratterà di semplici live come quelle che tenevo pubblicamente dove l'intrattenimento faceva da padrone ma saranno vere e proprie discussioni private strutturate secondo una logica ben precisa e dense di contenuto volto alla monetizzazione in cui ti darò il massimo supporto possibile inoltre per ottimizzare l'efficacia di ogni intervento avrai sempre a disposizione un form dove potrai inviare le richieste sugli argomenti che più desideri o esporre qualche tua problematica specifica che potrà essere discussa in diretta infine ci saranno appuntamenti dedicati non a scadenza regolare con ospiti speciali del calibro di alfio bardolla mirko gasparotto e tanti altri ancora come per esempio dan kennedy continua a leggere per scoprire cosa ti aspetta questo mese abbiamo poi una lezione di copy injection il tuo appuntamento mensile per iniettare copy persuasivo nella tua strategia di marketing un'ora e mezza circa di contenuto al mese più q&a tenuta da uno dei coach ufficiali nonché il nostro copywriter interno al quale deciso di delegare l'intero reparto copy della big look international questo sarà un vero e proprio corso studiato per amalgamare al meglio il copywriting con le strategie che insegno permettendoti di craccare il potere decisionale del cliente attraverso la manipolazione scritta una lezione di roy update per rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità tecniche e strategiche relative all'online marketing facebook ads funnels autorisponditori e tutto ciò che incide direttamente sul roy delle tue campagne non avranno più segreti sarai perennemente informato sulle notizie dell'ultima ora che noi stessi sfruttiamo per far performare al meglio i nostri investimenti pubblicitari ad esempio come probabilmente sai l'algoritmo di facebook è in costante aggiornamento e non rimanere al passo significa letteralmente lasciare soldi sul tavolo e non pochi quindi avere anche qui un coach ufficiale a tua disposizione per circa un'ora e mezza con tanto di q&a potrebbe sensibilmente variare il tuo bilancio di fine mese quinto spoiler box il contenitore delle lezioni più salienti dei nostri corsi che tu ci creda o no ogni singolo mese riceverai mezz'ora in media di lezioni drenate direttamente da uno dei nostri corsi compresi quello del protocollo kennedy in pratica avrai a disposizione mensilmente una ciliegina sulla torta potenzialmente milionaria sul serio non ci limiteremo a rendere pubbliche le parti meno impattanti ma caricheremo nella tua area membership contenuti più preziosi capaci di far schizzare alle stelle conversioni introiti e profitto netto sesto aggiornamenti suggerimenti delucidazioni input eccetera in risposta alle tue domande nel gruppo facebook privato ed esclusivo rana nera club exclusive members non so se ti rendi conto ma significa ricevere ogni singolo mese almeno 10 ore di formazione di alta qualità firmata big look international in pratica un intero corso al mese di cui buona parte interattiva in cui potrai ricevere risposte mirate per la tua attività non sarai dunque più solo di fronte alle decisioni più complesse per la tua azienda come vedi non scherzavo prima quando tentavo di dirti che questo è davvero il massimo livello di formazione a cui puoi andire per ottenere risultati ben oltre l'ordinario ma non è finita qui ogni due mesi di iscrizione completi a rana nera se l'abbonamento rimarrà attivo riceverai un bonus a sorpresa per ringraziarti della tua partecipazione si tratterà principalmente di contenuti digitali non disponibili in nessun altro modo di estremo valore capaci di racchiudere i segreti più reconditi ai quali potrei mai accedere fidati se ti dico che non c'è mai stato periodo migliore per acquistare un corso firmato big luca international ma dov'è il trucco come può costare così poco caro mio che tu ci creda o no non c'è trucco non c'è inganno posso capire il tuo scetticismo perché probabilmente un quantitativo così esagerato di contenuti inediti ad un prezzo così irrisorio non si è mai visto tanto meno in casa big luca non ti nascondo inoltre che lo sforzo economico per mettere in piedi e mantenere attivo un servizio del genere è piuttosto mastodontico dietro a questa ideuzza che mi è venuta c'è un'intera impalcatura sorretta da un team che ha il compito di far filare tutto liscio e per quanto può sembrare facile vista da fuori ti assicuro che il quantitativo di lavoro richiesto è colossale produzione di contenuti schedulazione reparto tecnico raccolta feedback customer care e tutto il resto ma se ho deciso di farlo è perché so di aver fatto bene i miei calcoli e la cifra mensile richiesta seppur ridicola moltiplicata per lo zoccolo duro dei miei studenti permetterà a questa membership di rimanere attiva e profittevole per gli anni a venire dandoti la possibilità di ricevere costantemente la migliore formazione possibile in definitiva se hai capito che far parte di questo gruppo esclusivo significa sederti al tavolo dei grandi per iniziare a fare davvero sul serio unisciti oggi stesso cliccando su una delle due versioni di rana nera vorrei concludere ringraziandoti per aver letto questa lettera e per aver considerato di unirti a questo gruppo d'elite mi auguro di vederti presto in una delle mie live private ps mi raccomando se sei consapevole di essere ancora alla ricerca del soldo facile del metodo di guadagno della rendita automatica non investire in questa membership perché il gruppo esclusivo che voglio è composto solo da imprenditori e professionisti che sanno cosa vuol dire fare business i giochini lasciamoli agli altri su via grazie a tutti